Prego. Questa splendida cornice di Capri, abbiamo venuto a celebrare il nostro terzo evento Life 2018, la Summer Edition. Finalmente mi sembra che ormai abbiamo in modo chiaro e definitivo sdoganato l'industria dei servizi. Siamo un settore fondamentale e trainante. L'Istat ieri ha detto che il nostro settore cresce del 3,5%. Quindi noi siamo un settore anticiclico che ha bisogno della massima attenzione, collaborazione soprattutto da parte del governo attuale necessita urgentemente una legge quadro per il mondo dei servizi.